Diamo un saluto agli amici dell'altro giornale, ospite con me oggi Alessandro De Ammoli, presidente del Carneval de Castelnuovo. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Ciao e ben trovato, grazie per aver accettato l'invito dell'altro giornale Channel. Facciamo subito due bei discorsetti riguardo la tua presidenza nuova, perché è da poco neopresidenza in questo gruppo, però in realtà tu sei fondatore da parecchi anni. Ci vuoi raccontare un po' la tua storia? Sì, allora 15 anni fa abbiamo pensato, insieme anche ad altre persone, di fare qualcosa di nuovo a Castelnuovo e lo spunto era il Carnevale, perché effettivamente mancava. Allora era proprio il periodo del Carnevale del 2005, mi sembra di ricordare perché non mi ricordo più, e lì è iniziata un po' una sorta di informazioni per capire come si fa, in particolare anche per la raccolta delle persone. Mi ricordo che avevo fatto una sorta di volantini dove si invitava una sera al teatro parrocchiale alle persone e fatalità, qualcuno l'ha visto, ma sfortunatamente c'era il numero sbagliato, dunque praticamente non è venuto nessuno per informazioni. Dopodiché lì, non mi sono arreso comunque e ho continuato a rincorrere, a vedere se c'era la possibilità di trovare persone per cercare di fare qualcosa, per fare sto Carnevale qua a Castelnuovo. E da lì, proprio parlando con un po' di persone, è arrivata praticamente la ciliegina sulla torta. Hanno cominciato comunque aderire persone, di cui 18-19 sono state fondatrici insieme a me del Carnevale, che tra l'altro conoscevo anche in altre associazioni di volontariato, dunque in poche parole bastava solamente parlare forse di più che magari trovavi le persone dietro all'angolo. E da lì è nato il Carnevale ufficialmente il 2 novembre 2005 e poi nel 2006, il 6 marzo, abbiamo realizzato la nostra prima sfilata per le vie di Castelnuovo. Ecco, ma quali sono le attività che svolgete all'interno di questo gruppo, oltre che alla sfilata carnevalesca, chiaro? Allora, ovviamente in primis la nostra sfilata di Carnevale, che la facciamo la prima domenica di quaresima e poi ovviamente abbiamo voluto anche creare una maschera. In questo caso ci siamo un po' basati su quella che è la storia di Castelnuovo, cioè lo stemma comunque comunale e anche il simbolo del paese è la Torre Viscontè, costruita nel 1387 da Giangaleazza Visconti, che era un signore di Milano. Qua nella zona comunque ha costruito anche il ponte Visconteo di Borghetto, alla quale insomma è stata ancora in piedi. E noi abbiamo voluto fare questa maschera perché comunque doveva essere, cioè deve rappresentare il nostro comune all'interno della provincia e anche fuori, in particolare anche la città di Verona. Ma non solo c'è la maschera, ma da qualche anno, da cinque anni abbiamo fatto anche, realizziamo anche il carro allegorico. Dunque anche lì è un'altra sfida perché comunque si ha a che fare con tantissime persone, per fortuna famiglie, bambini, ragazze e ragazzi dove vengono comunque a costruire la carta pista dunque ha un impegno ancora più maggiore perché si comincia a settembre, qualche mese prima per pensare a che cosa fare e se farlo. E poi si arriva alla fine che si iniziano a fare le prime sfilate a fine gennaio. Ma il carro allegorico cosa rappresenta? Cambia ogni volta e così ripropone un tema di attualità oppure è proprio il simbolo del vostro paese? Sì, allora no, il carro cambia tema ogni anno. Ovviamente i primi due anni ci siamo un po' basati su quello che è l'attore Viscontea, il Duca e la Duchessa. Il secondo anno invece abbiamo centrato il tema del carro sull'Euro Carnevale che era presente nel 2016 a Verona ed è stato ospitato nell'arena. Invece dal terzo anno in poi abbiamo praticamente, ci siamo un po' affidati ai carlisti centesi di cui abbiamo un gemellaggio storico e dove veramente ci hanno preparato dei bozzetti e noi sui bozzetti che hanno fatto loro abbiamo realizzato il carro. In quanti siete a fare il carro di carta pesta? Non siamo mai tanti, però ogni anno abbiamo sempre aumentato qualche persona in più che ci viene da una mano a costruire e questo è anche un momento per stare insieme al freddo ovviamente, però siamo veramente contenti. Ma quanto grande è questo carro? Vabbè, allora la lunghezza saranno 7 metri circa e la larghezza, no forse anche un po' meno e la larghezza 2 metri e mezzo, però comunque ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di nuovo per cercare di movimenti piuttosto che magari altre figure, insomma ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di nuovo e di investire comunque in qualcosa che ci rimane. È un bel lavoro importante, quest'anno l'anno che è passato immagino rovinato dal Covid. Eh sì, purtroppo sia la sfilata di Carnevale che in teoria era il quindicesimo di fondazione sia il carro comunque dedicato un po' ai pagliacci e anche al quindicesimo del Carnevale ci ha un po' rovinato i nostri progetti, però insomma siamo già pronti a ripartire e questo è un bel traguardo secondo noi. E quindi quando ripartirete? Adesso noi volevamo terminare qua a settembre con la tradizionale festa dell'Uva a Castelnuovo che si chiamerà Festival dell'Uva quest'anno e dopodiché ottobre puntiamo già a cominciare. Abbiamo già comunque un'idea di quello che faremo e ottobre comunque che non vi svelo perché comunque è una sorpresa. Stavo per chiedertelo, poi mi hai preceduto. No, deve essere una sorpresa fino all'ora in teoria e quest'anno l'abbiamo presentato il 6 gennaio in occasione dell'Epifania in piazza. Adesso vediamo un attimo come si riesce a risolvere il problema Covid. Quindi se tutto va bene diciamo che il carro allegorico che doveva esserci nel periodo di Carnevale ci sarà tra qualche mese, in concomitanza quindi con il Festival dell'Uva? No, assolutamente no, non ce la facciamo. Dopo, quindi dopo? Sì, sì, cominciamo a ottobre. Ma fate qualcosa voi per il Festival dell'Uva oppure no? Sì, noi abbiamo sempre partecipato comunque con la nostra casetta dove vendiamo il vino di una cantina qua di Castelnuovo, Appoggio delle Grazie, che gentilmente tutti gli anni ci viene incontro e dopodiché abbiamo anche il gazebo delle torte. Quest'anno sarà una cosa un po' più limitata perché ovviamente sappiamo che le nuove normative del Covid non consentono determinate attività nelle feste, dunque ci limitiamo a quello che comunque l'organizzazione ci propone, ecco tutto lì, cioè la vendita del vino e basta. Ecco il Covid, voi come gruppo ha portato diciamo un po' di depressione, di tristezza o invece vi ha dato ancora più carica per andare avanti ancora più, in modo più forte, più incisivo? Allora ovviamente anche noi abbiamo dovuto superare un po' il momento, stando comunque ci siamo un po' stati vicini anche tramite i gruppi di Whatsapp e magari condividendo anche su Facebook foto, momenti di questi 15 anni di carnevale, dunque insomma siamo riusciti un po' a stare insieme. A non mollare, certo, a non mollare, vero? Sì, sì, dopo di che ovviamente la situazione era un po' delicata anche perché come sa benissimo non tutti tra virgolette si fidano ad uscire piuttosto che stanno inchiusi in casa, ecco, lì secondo me comunque noi col carnevale stiamo cercando di dare un po' di rilanciare un po' quello che è il volontariato comunque e per l'anno prossimo insomma speriamo di riuscire perché avremo tante idee per la mente. Certo, tra le idee anche che avete avuto c'è stata quella di fare un po' di tradunione con altri comuni, se non sbaglio, avete fatto reti con altri carnevali, ecco sì. Sì, abbiamo sempre mantenuto rapporti comunque con tutti i carnevali della provincia e della città e anche fuori regione perché effettivamente devo dire anche fuori regione perché c'è sempre da imparare in particolare anche dagli altri e questo deve essere comunque uno strumento per il futuro. Io posso comunque avere delle idee nuove, delle iniziative nuove, però comunque devo anche guardare anche quello che fanno gli altri. Ovviamente sono tutte idee valide, posso copiare e sicuramente se qualcuno copia la nostra idea io sono ben contento. Io per esempio all'incoronazione di papà De Gnogo di quest'anno ho conosciuto delle ragazze, dei ragazzi russi dove praticamente erano lì per caso in coronazione papà De Gnogo e dove praticamente li avevo seduti vicino e mi hanno chiesto tutte le informazioni. E da lì ho cominciato comunque a portare i libri sul carnevale di Verona, il carnevale di Castelnuovo che noi abbiamo fatto un libro 5 anni fa e loro stanno costruendo una tesi di laurea sul carnevale veronese in particolare. Dunque secondo me è una bella cosa. Quasi tutti i giorni mi sento con questo gruppo di ragazze e ragazzi dove mi chiedono informazioni sui gnocchi piuttosto che il papà del gnocco, piuttosto che il carnevale, piuttosto che il vino, l'uva, queste cose qua. Dunque secondo me tra qualche mese diventiamo anche internazionali come carnevale. Non dico solamente di Castelnuovo ma parlo in generale perché io ho voluto raccogliere tutto quello che è il carnevale. Certo del nostro territorio. Ma a proposito di relazioni con l'estero avete fatto qualche gemellaggio in giro per l'Europa, per il mondo? No, noi finora non abbiamo fatto gemellaggi con l'estero, però comunque ho partecipato a degli eventi dove c'era dei gemellaggi con i carnavali esteri e ho potuto vedere comunque le tradizioni, i costumi. Per esempio avevo conosciuto il carnavale in Croazia dove praticamente anche loro hanno una cultura diversa. Ovviamente c'è sempre l'allegria di portare sorrisi, però comunque il modo è completamente diverso. E adesso è un po' di tempo che non li sento, però comunque sono cose veramente utili perché si imparano tantissime altre cose. Anzi noi siamo gemellati con Cento, con l'associazione Caristicentesi, perché abbiamo un'amicizia da tanto tempo e cinque anni fa abbiamo ossidato questo gemellaggio con i caristicentesi. E' famoso tra l'altro, famosissimo il carnevale di Cento. Sì, siamo stati più di una volta ospiti e posso dire che insomma è stata una bella esperienza, anche perché è un'altra cosa, vedi un altro mondo, vedi un altro carnevale. Voi state facendo, progettando qualcosa con il comune di Castelnuovo? Avete in mente qualche progetto particolare? Sì, allora noi stiamo puntando sul discorso delle scuole. Cioè nel senso, vogliamo coinvolgere le scuole, le scuole materne, primarie e secondarie, dove praticamente possiamo spaziare e possiamo comunque far conoscere ancora di più la maschera e comunque anche il carnevale. Dunque con l'assessore Ardielli abbiamo iniziato una serie di incontri dove vogliamo portare la cultura del carnevale attraverso le scuole. e lo so che è difficile perché alla fine la quotidianità da scolastica è molto impegnativa, però noi vogliamo fare anche questa cosa qua, perché riteniamo che comunque devono partire da un'età bassa per cercare comunque di avere un futuro poi magari carnevalante anche loro. Certo, anche perché questo vuol dire continuità della tradizione in primis. Ma poi anche io credo sia un tramandare una storia, perché il carnevale non è solo sinonimo di allegria, coriandoli o quant'altro, ma è comunque storia della nostra cultura, perché si parla sempre di personaggi che hanno fatto la storia della nostra Italia, del nostro territorio. Sì esatto, Gian Galazzo e Visconti alla fine sicuramente non l'abbiamo conosciuto, perché comunque è stato qua nel 1387, però comunque per i castelnovesi è comunque un vanto. Ha costruito quest'attore che tuttora spicca, restaurata in una collina antistante alla chiesa, e sinceramente, a parte la mia cosa personale, che io ho un amore particolare per la nostra Torre Viscontè, perché comunque è un bel monumento, secondo me, e poi la posizione strategica, perché comunque ovviamente non andavano a fare torri di vedetta in posizioni strategiche, dunque da lì tu vedi praticamente tutto quanto il lago e tutto quanto la pianura castelnovese. Pensi che sia poco valorizzata a proposito della Torre, visto che hai tirato fuori l'argomento? Oddio, non sono io che devo giudicare queste cose qua. Io sinceramente pensavo, magari anche a dei percorsi culturali, in collaborazione ovviamente con associazioni che seguono questa cosa qua, che riscoprono i posti e i luoghi storici, magari che comunque ci fosse una collaborazione tra noi, che comunque rappresentiamo, tra virgolette, il Carnevale allo stesso tempo, Gian Grazio Visconti, e anche queste associazioni che credo che facciano un buon lavoro attraverso il nostro territorio. Dunque l'intento comunque è quello magari di trovare collaborazioni, cercando di trovarle e parlare, discutere, vedere che cosa si riesce a fare tutti insieme. Certo, anche perché il Covid ci ha insegnato che l'unione fa la forza. Uno dei pochi aspetti positivi di questo brutto periodo, di questo 2020, da dimenticare in un certo senso sotto molti aspetti. Alessandro, vuoi invitare i cittadini a qualche evento, vuoi in ultima battuta insomma dire qualche cosa? Sì, noi vi aspettiamo l'ultimo weekend di settembre, 25, 26 e 27 settembre, a Castelnuovo al Festival dell'Uva, e troverete nell'area delle casette, ci troverete noi con la nostra cantina a Poggio delle Grazie, dove magari oltre che a bere un buon bicchiere di vino, magari venite anche a scoprire un po' quello che è il Carnevale, magari dare anche l'adesione alla maschera, perché ogni anno faremo le lezioni, e se abbiamo comunque dei candidati, per portare avanti la tradizione, oppure magari far parte anche del carro, delle coreografie del carro, o anche a costruire il carro. Dunque abbiamo un buon pacchetto, che potrebbe essere un po' per tutte le tavere, o sia chiaro? Sì certo, è un modo per socializzare, per stare insieme alle persone, per riempire anche quei buchi dell'anima, perché no? Perché quando si sta con gli altri, si fa qualche cosa, si realizza qualcosa, penso che sia sempre una nota positiva, qualcosa che ci faccia del bene. Esatto, bravo. Se mi permetti, visto che siamo in chiusura, mi sembra di capire, io volevo fare dei ringraziamenti, perché ovviamente devo ringraziare comunque, tutti quanti, quelli che ad oggi stanno facendo il Carnevale, perché ovviamente senza di loro non riusciamo a fare niente. Dunque anche voglio fare un ringraziamento al direttivo, quello passato, ma al direttivo anche quello nuovo. Volevo ringraziare Laura, che è la vicepresidente, Maria Angela, che è la cassiera, Rosetta, che è un consigliere, e New Entry, Niccolò Bongiovanni, che è responsabile del carro, Valentina Pedon, che è la segretaria, New Entry anche lei, e Pietro Spieri, che è responsabile della sfilata di Castelnuovo, New Entry anche lui, dove veramente insieme anche a noi, a me in particolare, un po' vecchio del Carnevale, vogliono fare questa prima esperienza all'interno del direttivo, cosa che io l'ho fatta tantissimi anni fa, quindi dieci anni fa, e siamo, noi veterani, siamo ben disponibili a aiutarli, a sopportarli per questa nuova, chiamiamola pura avventura, insomma. Certo, sarà una bellissima esperienza, finirà sto 2020, no? Cosa dice adesso? Esatto. Bene, allora, ringraziamo Alessandro De Amoli, presidente del gruppo Carnevale di Castelnuovo, grazie, tienici al corrente delle vostre prossime mosse, dei vostri prossimi eventi, ecco, a parte il Festival dell'Uva, che sarete lì, più che altro per distribuire, diciamo, il vino, con questa casetta, insomma dove darete il vino, ma poi citerà il corrente, per quanto riguarda invece il vostro carro, come procede, quando lo potremo vedere, visto che non l'abbiamo visto a Carnevale. Ok, grazie a tutti voi, grazie a te per sempre, per la tua disponibilità, che ogni volta metti a disposizione, per queste associazioni di volontariato. Eh beh, è giusto che le associazioni abbiano la loro visibilità, perché lavorano tanto, e tante volte questo non lo sappiamo, e allora è giusto che si sappia. Allora, grazie ad Alessandro De Amoli, e grazie agli amici dell'altro giornale, che ci hanno seguito. Buona serata a tutti. Buona serata. Grazie a tutti.